Allora partita questa finale allievi maschi 5.000 punti Allora da adesso Campana dal prossimo giro diamo i punti al primo e al secondo Forza ragazzi adesso E andiamo punti al passaggio meno 11 50 e 30 Ed ecco il passaggio a meno 10 50 e 30 I punti vanno a 50 e 30 E andiamo al passaggio meno 9 I punti vanno al 50 e al 90 Passaggio a meno 9 E andiamo passaggio meno 8 Passaggio a meno 8 50 e 30 50 e 30 al passaggio meno 8 E andiamo a questo passaggio meno 7 117 e 87 117 e 87 prendono i punti al passaggio meno 7 E andiamo a questo passaggio meno 6 Vediamo chi prende i punti Però stavolta 31 e 117 prendono i punti 31 e 117 prendono i punti E questo passaggio meno 8 E andiamo al passaggio meno 5 50 e 30 32 e знаю al passaggio adesso saremo a meno 4 questo è il passaggio del meno 4 i punti li diamo a 90-30 grazie e arriviamo al passaggio numero 3 87 e 30 numero 87 e 30 prendi i punti al passaggio passaggio al meno 2 passaggio al meno 2 dal prossimo sentiamo la campana ragazzi e si finisce anche questa finale e andiamo passaggio al meno 1 punti 93 e 15 ultimo giro ragazzi dai si decide vi ricordo che è una finale quindi qui si decide il campione regionale diamo punti al primo al secondo e al terzo dai manca ancora mezzo percorso mezzo circuito mezzo percorso per chiudere questa finale e andiamo andiamo verso la chiusura 15 31 e 117 bravissimi ragazzi dopo 5.000 metri la gara non è ancora finita quindi nessuno è autorizzato a entrare in pista guarda Grazie